Nuova attrazione per il Sirmione, la Darsena alle nostre spalle viene aperta oggi, inaugurata ufficialmente, sarà aperta poi anche al pubblico, un angolo visto da pochi, i sirmionesi forse anche loro pochi l'hanno visti, siamo con il sindaco di Sirmione ancora per un paio di mesi, diceva Alessandro Matizzoli, una bella novità questa. Sì assolutamente, poi al di là dell'aspetto culturale, dell'aspetto storico, credo che tutte le volte che siamo in grado di recuperare una parte del nostro patrimonio e renderla fruibile al pubblico, ai cittadini, agli ospiti, diamo anche un messaggio molto positivo di voler assolutamente puntare sulla cultura, di investire sulla cultura e credo che in Italia Sirmione sul lago di Garda ce ne sia estremamente bisogno anche se molto è già stato fatto. Il sindaco, come diceva prima, un paio di mesi ancora poi passerà in regione, lascia il comune di Sirmione dopo quasi dieci anni di mandato perché la scadenza naturale l'anno prossimo, qualche rammarico e qualche soddisfazione di Sirmione. Assolutamente è stato un grande onore, una grande esperienza, mi ha fatto penso da un punto di vista politico maturare molto, ci sono stati dieci anni anche di vice sindaco, assessorato, voglio dire un percorso proprio direi completo, siamo al diciannovesimo anno e dunque ritengo che così ci fossero tutte le possibilità, le condizioni per provare a misurarsi anche un po' fuori dal territorio sirmionese, sempre tra l'altro in un ambito amministrativo di macro area come è la regione, ma assolutamente sempre a contatto dopo di fatto con gli amministratori locali, con i cittadini, con le esigenze imprenditoriali, con le esigenze del territorio, dunque un contatto col territorio che rimane fondamentale e forte per provare a dare buona politica e buone risposte a quelle che sono le richieste tra l'altro sempre più in evoluzione della famiglia in primis, del mondo imprenditoriale, del mondo delle libere professioni e di tutto il tessuto sociale che compone la nostra Lombardia, la nostra bella Italia. Mauro Carrozza, assessore alla cultura, cultura vuol dire anche turismo perché quello che stiamo inaugurando, quello che stiamo inaugurando oggi, questo darsena, questa meraviglia nascosta di Sirmione fa parte anche della cultura di Sirmione. Sì, è profondamente intrecciata con la cultura di Sirmione, è un piccolo gioiello, i sirmionesi l'hanno costituito per diversi secoli e oggi finalmente anche quest'ultimo pezzo viene riaperto ed è simbolico e ringraziamo per questo il Polo Museale e il Dottor Locaso che il primo giorno di apertura si è riservato ai Sirmionesi. Quindi è una bellissima iniziativa, un sole stupendo e siamo molto felici di aver raggiunto questo risultato. Si è riservato ai Sirmionesi perché credo che pochi Sirmionesi conoscano bene questo luogo interno perché è sempre stato chiuso, era anche un po' problematico entrare, però la gente forse lo conosce più dall'alto. È chiuso da ormai più di 30 anni, però alcuni sirmionesi che hanno una certa età come la mia mi hanno ricordato con dei bellissimi messaggi che venivano qui anche di nascosto a fare il bagno, si tuffavano dai merli e quindi era il luogo proibito dei giovani sirmionesi, è stato chiuso poi a lungo e finalmente è tornato disponibile per sirmionesi per turisti. Un straordinario luogo, un ulteriore luogo bellissimo di Sirmione. E con questo farà parte poi della visita del castello, il visitatore potrà visitare tutti i giorni? Certo, il castello quindi riassume tutta la sua completezza anche con la darsela e quindi sarà disponibile a tutti negli orari tradizionali.